Ciao! Conosci le problematiche delle barene? Pensa che nell'ultimo secolo a causa di fattori antropici si sono ridotte di circa due terzi. Ma c'è una soluzione! Pitaro, un vaso sharing realizzato in acido polilattico che ti permetterà di coltivare piante di barena a casa tua e di aiutare le barene contro l'erosione. Non tutti sono pollici verdi. Pitaro, infatti, avrà i semi già all'interno dei pot. Ti basterà aggiungere acqua. Ne aggiungi troppa? Verrà drenata. Pitaro è accompagnato da un'applicazione che ti guiderà passo passo durante la crescita della tua pianta. Infatti, ti basterà preparare una soluzione di acqua salmastra e versarla all'interno del vaso. Non temere, l'acqua sarà sufficiente per molti giorni e ti basterà darla due volte alla settimana. Terminata la fase di crescita, dovrai recarti all'imbarcadero che preferisci. Potrai prenotare il luogo e il giorno che ti fa più comodo. Una volta arrivato, potrai consegnare il vaso su un'apposita struttura, progettata con solo materiali di origine lagunare. Successivamente, un operatore specializzato porterà le tue piante in barena, dove queste verranno trapiantate, favorendo così una protezione ottimale e naturale delle terre emerse, sanificando le barene.